Si torna al Capodanno in piazza all'Aquila. Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, Comune e Associazione Vulcano hanno messo in piedi un cartellone che vedrà l'esibizione sul palco di Piazza Duomo di diversi artisti italiani. In apertura ci saranno i padroni di casa, gli Aquilani Metro, di recente concorrenti del talent show di Maria De Filippi. Dopo il brindisi di mezzanotte si esibirà l'Iver Piotta che arriva al capoluogo di regione dopo il suo tour in giro per la penisola. La serata terminerà con il DJ set di Inobet. Gli spettacoli saranno gratuiti, l'inizio è previsto per le ore 23. E questo sarà un Capodanno illuminato per l'Aquila. Per la notte dell'ultimo dell'anno infatti saranno illuminate le mura cittadine, una prova luci simbolica nel tratto che sovrasta Viale della Croce Rossa in attesa della sistemazione completa. Il primo gennaio invece vedrà il tradizionale appuntamento con l'orchestra da camera aquilana e il concerto di Capodanno. L'orchestra da camera è diretta dal maestro Carmine Gaudieri e si esibirà alle 11.30 nell'auditorium del Parco del Castello.